Il Teramo stringe i tempi sul mercato. Viste le difficoltà per arrivare alla mezzala Santoro dal Palermo, al terzino Fiordaliso dal Torino, al portiere Marcone dal Trapani, il Sodaliso Biancorosso, a tre giorni dalla chiusura del mercato, sposta i propri obiettivi su altre squadre. Dal Pescara si registra un ritorno gradito per rinforzare le corsie laterali in difesa, quello di Cristian Ventola, già alla corte di Zichella lo scorso anno. Il ventunenne terzino, che bene aveva fatto la scorsa stagione in maglia biancorossa 27 presenze e due reti, torna con la formula del prestito. L'idea di far tornare Ventola era già emersa a giugno, ma bisognava attendere la decisione del Pescara sulle prospettive di impiego del giocatore e capire se il ritorno potesse concretizzarsi. Con il Pescara potrebbe riaprirsi uno spiraglio per provare a prendere il centrocampista esterno ganese Selasi, classe 96, già in passato accostato al club di Campitelli. Potrebbero esserci novità anche sul conto di Giacomo Tulli, c'è una trattativa con il Renate per uno scambio tra l'attaccante marchigiano e il portiere Matteo Cincilla, classe 94. E' tramontata la pista che conduce all'estremo difensore del Trapani, Marcone, da segnalare il passaggio del difensore Simone Sales, svincolato al neopromosso Potenza. A proposito di svincolati, l'ecuadoriano Kevin Varas si è accasato in Serie D con il Rezzato, squadra bresciana, e invece è rimasto in bianco-rosso Riccardo Barbuti, reduce dal prestito al Gavorrano. Il giocatore ha prolungato di un anno il suo contratto con il Teramo. Il Diavolo è tornato ad allenarsi ieri per preparare l'amichevole sul campo dell'Avezzano, ore 20.30 domani sera, e la sfida di domenica a Rieti, ore 17.30, a porte chiuse, valida per la seconda giornata di Coppa Italia.